Buon pomeriggio a tutti, questo è l'ultimo incontro del ciclo storico religioso dedicato quest'anno al 400 e la fine del Medioevo, i grandi eventi. Come sapete il ciclo storico religioso è organizzato ormai a partire dal 2012 dall'amicizia ebraico cristiana di Torino, dalla comunità ebraica e da due anni dal Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. Il ciclo ha voluto quest'anno introdurre alcuni focus prevalentemente dedicati al mondo femminile. Abbiamo avuto l'ultima lezione che la professoressa Anna Segre ci ha parlato del ruolo femminile nei testi dell'ebraismo. Oggi il professor Ottavio Di Grazia ci parlerà di donne bibliche in alcuni testi della tradizione ebraica medievale. Dirò due parole di presentazione del professor Di Grazia che ringrazio e che ci parla appunto da Mercogliano in provincia di Avellino dove risiede e come sapete la lezione di oggi si svolge unicamente online sulla pagina Facebook dell'amicizia ebraico cristiana ma è riascoltabile come tutte le altre lezioni del corso nel sito dell'amicizia ebraico cristiana di Torino. Ottavio Di Grazia è docente di cultura e identità religione all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa a Napoli e dottore in filosofia, ha compiuto i suoi studi alle Università degli Studi di Napoli e di Urbino e ha trascorso periodi di ricerca presso le università tedesche tra cui l'Università di Berlino. Ha tenuto lezioni all'Università di Parigi la Sorbona e ai master in scienze religiose in mediazione e comunicazione interreligiosa interculturale presso l'Università la Sapienza di Roma. Ha insegnato, i suoi interessi sono prevalenti, le sue materie di insegnamento sono prevalentemente di storia del cristianesimo, ha insegnato storia dell'Oriente cristiano, storia del cristianesimo e storia delle religioni del Mediterraneo, storia della diaspora, filosofia teoretica ed ecunismo e storia delle religioni. Ha collaborato e collabora tuttora con la rivista Confronti di cui è stato redattore e ha scritto per l'Unità il Manifesto e collaborato con i periodici e le agenzie religiose quali Asprenas, Rassegna di Teologia, il Pensiero, Umanita, Sermeneutica, Studi Storici e Religiosi. Per venire a quello che riguarda più strettamente l'ambito del nostro interesse cioè l'ebraismo cito la partecipazione al Comitato Scientifico di Lec Leca, la settimana della cultura ebraica di Trani, in collaborazione con la Regione Puglia. Numerose sono anche le pubblicazioni saggi in italiano e in francese, tra gli altri mi limito a citarne alcuni, sul pensiero e la tradizione ebraica soprattutto moderna e contemporanea. Tra i più recenti studenti sulla rivista dell'Università degli studi di Trieste, studi interculturali, ha pubblicato Ascolto azione sul libro di Esodo, Ebraismo e modernità è un saggio sul libro del Coelet, ed è autore del libro La Croce e la Svastica, il pontificato di Pio XII tra silenzi e complicità insieme a Nico Pirozzi, per l'editore D'Amico. Nel 2022 ha scritto omaggio a Claude Viget, pseudonimo di Claude André Strauss, poeta ebreo assaziano, in Petetre, Revue Poétique e Philosophique. Qualificate sono state anche le direzioni e iniziative editoriali in Italia, in Francia e in Belgio. A lui dobbiamo anche molte traduzioni e prefazioni di libri importanti, tra cui ricordo i libri pubblicati per l'edizione paulina, di cui ha curato la prefazione e il saggio introduttivo, di Mark Allen Wagnan, la lettura infinita e le dieci parole, forse il più conosciuto, le dieci parole, come anche ha tradotto e introdotto di John Frankl, il mondo spirituale dei racconti aggadici, e José Costà, la Bibbia raccontata con il Midrash, e traduttore e prefattore anche dei libri di Stefan Moses, Storia di un ritorno e figure filosofiche della modernità ebraica. Nuovamente lo ringrazio per essere qui con noi oggi e do a lui la parola e sarà senz'altro interessante poterlo ascoltare. Buon pomeriggio e buon ascolto.